Scrutini. Siamo arrivati agli scrutini del primo quadrimestre. O ci piace o non ci piace, o in dad o in presenza ci siamo arrivati. Ed eccoci qua con i soliti problemi, magari per chi è coordinatore per la prima volta, come si fa, come lo manovro, eccetera eccetera. In un precedente tutorial ho già parlato di come si fa l'importazione dei voti per coloro che sono diciamo docenti semplici all'interno del consiglio di classe, cioè che non sono coordinatori, perché le funzioni del coordinatore sono diverse di quelle da un docente semplice. Una cosa sicura è che il coordinatore deve attendere che tutti i colleghi del consiglio di classe abbiano già riportato i loro voti, così come ho spiegato in un altro tutorial, all'interno del tabellone. In questo momento in cui io sto registrando questo tutorial, ancora da noi in molti non hanno riportato i loro voti, per cui voi vedrete un tabellone un po' spoglio, nel senso che non ci sono tutti i voti, però le funzioni che dobbiamo vedere possiamo vederle ugualmente. Bene, siamo entrati su Argo D-Dapp, nella nostra area con le nostre credenziali andiamo subito a Scrutini. Caricamento voti. Ci si propone la finestra delle nostre classi. Andiamo nella classe che coordiniamo, scegliamo il periodo che chiaramente sarà il primo quadrimestre e scegliamo di portare voti e assenze. Andiamo avanti. ecco qui il nostro tabellone, qui c'è la colonna con i cognomi degli alunni che con la maniglia io vado a spostare sia per recuperare spazio sia per coprire anche i nomi dei ragazzi per questione di privacy. Anche le varie colonne possono essere rimpicciolite o modificate di ampiezza, così come sto facendo io. Nel caso in cui già tutti i colleghi abbiano inserito i loro voti, in automatico nel vostro prospetto vi troverete davanti dei voti, così come verosimilmente ha fatto l'insegnante di questa disciplina e l'insegnante di quest'altra disciplina. Nel caso in cui mancasse ancora qualche materia bisognerà o scriverli manualmente o sollecitare il collega che metta i voti finali dello scrutinio. Eventualmente come si fa? Prendo una materia a caso, per esempio lingua inglese, si clicca sulla materia, anche qui ho coperto i voti, si apre la finestra con i voti e si vanno a scrivere per esempio 5, 6, il collega vi detterà le assenze che magari saranno 0 oppure 7, 7, 2 assenze e così via. Dopodiché, una volta inseriti tutti i voti e volendo anche un giudizio in casi particolari, occorre salvare. Io chiaramente non lo faccio per non intaccare la materia del collega. Dopodiché si torna indietro, quindi supponiamo di aver il nostro prospetto bello completo. Vi ricordo che potete escludere gli alunni ritirati, potete anche non far vedere i voti, ma non capisco a che cosa serva, evidenziare i voti insufficienti, colorare il tabellone per avere più chiara la visione, per esempio, dell'andamento della classe, perché i voti positivi verranno colorati di verde, quelli negativi verranno colorati di arancione. Una volta che il nostro tabellone è completo, possiamo andare a stabilire il voto di condotta, che solitamente lo proponiamo noi coordinatori, e in quel caso clicchiamo su comportamento e andiamo a inserire il nostro voto di condotta, sarà 8, 9, magari qualcuno avrà un 6 e così via. Al termine salviamo, io ripeto non salvo nulla per evitare di sporcare il prospetto, visto che a giorni avrò anche io scrutini, salviamo e torniamo indietro. Stessa cosa con educazione civica, clicchiamo su educazione civica e anche qui andremo a mettere il voto scaturito dal consiglio di classe e il numero delle assenze, questo lo faremo per tutti i ragazzi, salveremo, ma in questo momento al solito io non salvo e torno indietro. Tabellone completo, cosa manca? Manca la media. Ora qui accanto voi avete riportato in automatico la media matematica, però andiamo in azioni, andiamo a inserimento rapido media e qui possiamo agire sulla media dei voti. Non so che senso possa avere, visto che già è stata calcolata in automatico, però è una delle possibilità e ve la faccio vedere. Quindi una volta che noi abbiamo modificato questa media, per esempio questa, anziché 7,83, mettiamo 7,5 e qui sotto metteremo 6, che è anche sbagliato andare a alterare questa media matematica, una volta fatto questo salviamo, ripeto io non salvo nulla, e torniamo indietro. Ma un modo più rapido per poterlo fare, sempre in azioni, inserisce automaticamente la media. Vuoi inserire la media? Sì. E come vedete nel campo media, la media è stata riportata e chiaramente è uguale alla media matematica. A questo punto il nostro tabellone è pieno, solitamente cosa si fa? Andiamo in azioni, possiamo stampare il tabellone. Scegliamo dalla lista il modello che la scuola ha selezionato, scegliamo in che ordine vogliamo che siano stampate, sia stampato l'elenco degli alunni, metteremo alfabetico, possiamo spuntare, escludi i ritirati, ma solitamente al primo quadrimestre non si fa. Riporta l'intestazione materie su tutti i fogli, lo possiamo spuntare. Questo è importante, riportare la data della stampa e andiamo a scegliere la stessa data in cui si fa lo scrutinio. Il formato va bene, abbiamo un'anteprima di stampa. In testazione abbiamo personalizzata, semplice e nessuna. Nella personalizzata vi chiederà il formato, ma io vi propongo di lasciare semplice, d'altronde i dati necessari ci saranno già messi e quindi non dobbiamo fare altro. stampa, il prospetto che viene proposto è il prospetto degli alunni con la possibilità di fare formare sotto tutti i nostri colleghi con la data. Come vedete l'intestazione è una semplice intestazione con il nome delle materie riportato e questo va bene. abbiamo la possibilità di scaricare, vedete qui scarica, il nostro tabellone, il file verrà scaricato in locale, cioè sulla nostra macchina. Vedete ci chiederà dove andarlo a salvare, vado a scegliere la mia cartella e agisco su salva, oppure posso direttamente inviarlo alla stampante da questo pulsante. Si clicca su stampa, ci si collega alla stampante e il gioco è fatto. Dopodiché torniamo indietro. Torniamo indietro ancora e ritorniamo al nostro tabellone. Andiamo ancora in azioni. stampa, prospetto. A differenza del tabellone, il prospetto riporta data di stampa. Metto anche qui un'intestazione semplice. Il prospetto riporta solo i voti relativi alla vostra materia con le eventuali modifiche. Quindi la differenza fra stampa, tabellone e stampa, prospetto è che stampa, tabellone stampa i voti di tutti, mentre stampa, prospetto stamperà esclusivamente i voti della vostra materia. Andiamo ancora. Compila verbale, che è la domanda che mi hanno fatto tutti molto spesso. Andiamo in compila verbale. Il sistema Argo ci propone una serie di verbali, uno diverso dall'altro. Solitamente però la scuola è indirizzata per un tipo di verbale piuttosto che un altro. Se non avete notizie di questo tipo, io vi consiglio di selezionare verbale per lo scrutinio intermedio con riporto dati. Selezioniamo e si aprirà la finestra con il verbale. C'è da precisare che, a parere mio, qui Argo ha un piccolo bug, nel senso che il verbale è possibile modificarlo qui. Per esempio, scrivo alle ore 15 e 30, avviene lo scrutinio, coordina la professoressa Barresi, che sono io, segretario, quello che sarà, eccetera, eccetera. Come vedete ci sono i nomi di tutti i docenti, eventualmente vengono inserite le modifiche, per esempio Assente Barresi lo sta sostituendo a Milcare. Insomma, possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo. In questo modello ci sono indicate le tipologie eventualmente di recupero, in base alla disponibilità economica della scuola. Ci sono tutti i nomi dei ragazzi e insomma tutti i dati che servono da verbalizzare. Volendo è possibile aggiungere qualcosa, come posizionandosi nel punto in cui si desidera inserire qualche cosa e andare a scrivere quello che vogliamo aggiungere. Handicap di questo verbale è che una volta stampato, per esempio, con la funzione di anteprima di stampa e successivamente si scarica o si stampa, il verbale tornando indietro e riprendendolo, come vedete le cose che io avevo inserito non ci sono più. Allora, quello che io consiglio di fare è, ancora prima di stampare o di scrivere quello che dobbiamo modificare, io vi consiglio di salvare localmente il verbale con questo pulsante qui con il dischetto. Il verbale viene scaricato, come vedete qui sotto, in formato HTML. Lo vado a prendere, mostra nella cartella e vado a rinominare il file, tasto destro, rinomina e anziché cambiare il nome del documento, cosa che potreste anche fare, per esempio mettete verbale numero 3, scrotinio della classe X, quello che è importante è che dovete andare a modificare l'estensione del file, togliete HTML perché in quel modo non lo potrete modificare e scrivete DOC. Vi dice, guarda che se modifichi l'estensione il file non lo puoi utilizzare, ma mettete SÌ e andate avanti. A questo punto avete il documento in formato Word, per cui lo aprite. A questo punto vi si propone il documento in Word con questa scritta qui, abilità modifica, cliccate. Il documento viene abilitato per poterci scrivere, ecco vedete qui, lo andate a salvare sul vostro computer, sulla vostra Prendrive dove volete e effettuate le modifiche 15 e 30 eccetera eccetera, scrivete come un normale documento Word. Dopodiché lo potete salvare e potete stamparlo con la pennetta dove volete, quando volete, oltretutto ne avete sempre una copia. Questo per quanto riguarda il verbale. Torniamo indietro. Andiamo a vedere altre funzioni, sono per esempio la stampa del pagellino. Anche qui abbiamo diversi formati per la stampa del pagellino. Questo è il pagellino con un voto unico, ma noi andiamo a fare il pagellino con la tabella dei voti quadrimestrali. Selezioniamo, quindi a questo punto avete qui il pagellino che potete anche qui inviare via email, ma solitamente a questo ci pensa la segreteria, o inviarlo nella bacheca, ma anche per questo ci penserà la segreteria, sia per lo meno nel nostro istituto, noi lo renderemo in anteprima di stampa e successivamente possiamo o scaricarlo per salvarlo sul nostro computer e stamparlo in seguito, oppure inviarlo via email ai genitori, oppure stamparlo in formato cartaceo per consegnarlo personalmente all'alunno. Andiamo ancora indietro. Indietro. Vediamo ancora cosa abbiamo. L'inserimento comunicazione del debito formativo. Attualmente debiti formativi non ne abbiamo, però guardiamola ugualmente questa voce. Comunicazione debito formativo primo quadrimestre. Ecco, non abbiamo debiti formativi, però in effetti ci sono ragazzi che hanno dei voti negativi, per cui è bene avvisare le famiglie con questo. Io in questo momento non ci sono dati da stampare perché il mio tabellone, vi ricordo ancora una volta, è incompleto, quindi non ci sono i voti. Magari fosse una classe con tutte sufficienze. Altra azione da vedere è lista voti. Vabbè, ma in lista voti abbiamo la tabella con cui ci sono descritti sia i giudizi per quanto riguarda la materia di religione cattolica, sia i voti segnati in rosso la insufficienza e in nero quella sufficiente. Ma in tutti i casi questa tabella non è possibile modificarla, quindi è soltanto consultiva. Indietro, a questo punto, dopo aver fatto tutto e solo se il dirigente vi ha dato l'incarico di bloccare i voti, potete cliccare su questo tasto per bloccarli e da questo momento in poi i voti non potranno più essere modificati. Detto questo lo scrutinio dovrebbe essere concluso, quindi torniamo indietro, indietro, chiudiamo il nostro Argo con il nostro Logout e buon divertimento con gli scrutini. Al prossimo tutorial! Ciao! 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 Ciao!